Quasi due mesi. Tanto è trascorso dal fermo dei marittimi siciliani in Libia, un braccio di ferro internazionale che non vuole sciogliersi. Non erano in acque libiche, ma per la Libia non è così. Non erano trafficanti di droga, ma per la Libia non è così. Vogliono, in cambio dei marittimi, degli scafisti, ma per la Libia sono solo dei calciatori. Intricata, controversa, quasi inverosimile la situazione che tiene 18 marittimi di Mazzara del Vallo e le loro famiglie, col fiato sospeso. I marittimi sequestrati e rinchiusi nel carcere di El Quefia, a 15 chilometri a sud-est da Bengasi, sono 8 mazzaresi, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi, ma le condizioni di salute sono comunque buone. Vengono regolarmente seguiti da un medico, le medicine sono sempre state consegnate, non vi è nessun problema di alcun altro genere e sono in una situazione che non è di promiscuità con altri detenuti. A riferirlo è l'ambasciatore d'Italia Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, parlando in collegamento con la non-edizione delle conferenze sulle economie del mare, Blue Sea Land, di Mazzara del Vallo. Proprio a Mazzara del Vallo, un momento di preghiera con i familiari è aperto a tutta la cittadinanza per esprimere vicinanza e affetto. Si terrà domani alle 21 nella parrocchia San Lorenzo con una veglia che sarà presieduta dal vescovo Monsignor Domenico Mogavero. La drammatica situazione dei 18 marittimi, dei due pescherecci della marineria mazzarese, Antartide e Medinea, si fa sempre più complessa e difficile, spiega il vescovo. Sono ormai trascorsi i 50 giorni dal sequestro in acque internazionali, considerate unilateralmente zona economica esclusiva della Libia dal 2005. Già perché la Libia avrebbe arbitrariamente spostato più in là, molte miglia in avanti, il perimetro di giurisdizione su quelle che sarebbero acque internazionali e che invece per la Libia sono proprietà privata? Storia vecchia. L'ambasciatore Buccino ha anche sottolineato come il governo italiano stia lavorando a tutti i livelli, con tutte le forze disponibili, affinché questa questione possa essere presto risolta. L'ambasciatore ha anche ricordato che non è la prima volta che c'è una situazione così complessa e alcuni casi analoghi furono risolti in un arco di tempio piuttosto ampio. In particolare nel 2013 ci vogliono diversi mesi e questo certamente non farà piacere ai familiari coinvolti. In particolare nel 2013 ci vogliono diversi mesi e questo certamente non farà piacere ai familiari coinvolti.